Più di 90 kg di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova, tutto nasce da un controllo stradale dei finanzieri su un'autovettura sospetta che in centro cittadino aveva un'andatura non adeguata con sorpassi azzardati e pericolosi. La persona è stata notata per uno stile di guida aggressivo all'interno del centro cittadino di Padova, quindi le pattuglie che erano dislocate sul territorio come dispositivo di contrasto e di prevenzione hanno pensato di procedere al fermo di questo soggetto che ha cominciato ad accentuare questo stile di guida non consono fino ad essere fermato dalla pattuglia che ha proceduto quindi alla perquisizione rivenendo all'interno del vano portabagagli un quantitativo di circa 30 kg di hashish. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno quindi perquisito l'abitazione del conducente dell'auto, uno straniero senza permesso di soggiorno trovando ulteriori 60 kg di hashish, un chilo di marijuana, più di 10.000 euro in contanti e 5 bilancini di precisione. È un'operazione di rilievo da un punto di vista quantitativo e qualitativo, ha avuto riguardo sia alla quantità di droga sequestrata, 90 kg di hashish circa, più un chilo di cocaina e a soldi in contanti rinvenuti poi nella successiva perquisizione. Quindi si innesta come risultato in un dispositivo di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti per evitare il rifornimento delle piazze di spaccio di Padova e provincia. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Le indagini sono in corso per verificare le fonti di approvvigionamento e quelle che poi sarebbero stati i canali di spaccio della sostanza. Sicuramente il quantitativo non è trascurabile e merita un approfondimento investigativo che sotto la delega della procura sarà effettuato.